Benvenuti ragazzi sul canale PG Passione Games, vi avevo promesso che avrei riproposto il giovedì di EFootball, anzi il giovedì di PES, ma ahimè ragazzi, sono rientrato da lavoro troppo tardi il giovedì e quindi mi sono detto, visto che insomma è un argomento che è stato in lungo e in largo ovviamente analizzato da tutti i pro player, da tutti quelli che sono un pochino gli influencer del gioco, io che non sono né influencer, meno male perché l'influenza non ce l'ho, né tantomeno un pro player, ho detto ok possiamo anche permetterci di postarlo il giorno dopo. Quindi questo venerdì ragazzi un po' un riepilogo di quello che è successo ieri, ma è una giornata, entriamo tanto dentro, una giornata in cui praticamente la novità più importante riguarda, e ora lo vedremo, riguarda senz'altro il discorso riferito alla modalità cooperativa. Cos'è la modalità cooperativa? Per dirlo in maniera molto così spicciola, innanzitutto, vabbè, prima di parlare di modalità cooperativa c'è stato un aggiornamento, un aggiornamento anche abbastanza corposo. Io parlo per il mondo Xbox, di cui poi faccio parte, l'aggiornamento ha interessato qualcosa come 18 GB. Ora non so la vostra connessione, ma insomma 18 GB, se proprio non si fa nulla e con una linea come la mia, un'oretta, un'oretta e mezzo, ci vuole per scaricare. Io l'ho fatto partire la mattina, con la speranza che sarei arrivato a registrare questo video il giovedì, è un'ora decente, cosa che non è accaduta. Io vedete, sono arrivato a casa e sto registrando, però ti ripeto, è un orario assurdo per poterlo postare. Quindi un aggiornamento abbastanza corposo, un aggiornamento che ha previsto, tra le varie cose, oltre le migliorie, oltre altre cose, che vedremo una modalità che in tanti aspettavano. Ora, il perché tanti l'aspettavano sinceramente non l'ho ben capito, ma era un qualcosa che in tanti fremevano per poterla avere, cioè la modalità cooperativa. Si può giocare in cop, ora ci sono un po', come dire, di opinioni contrastanti, ma di fatto la modalità cooperativa è in funzione, è in versione beta. Ora io sull'uso di beta, vi ricordo qualche video fa, quando il buone football era sempre nella fase embrionale, anche se per alcuni, anche questa fase è la fase embrionale, però insomma era una fase in cui sostanzialmente venivano testate un po' alcune cose, e mi azzardai a dire che la, diciamo, la versione che all'epoca veniva analizzata era la versione beta. Qualcuno nei commenti, che io, sapete, i commenti li apprezzo tutti, purché siano commenti giusti, quindi giusti riferiti al contest che è appunto tratto, giusti anche se dico qualche strafarcione, ma insomma, in quella circostanza ci furono alcuni personaggi, amici del canale, non amici, non lo so, ma comunque sicuramente personaggi che mi dissero tantissime cose non molto piacevoli perché avevo definito quella versione una versione beta. La diatriba era tra la versione beta e la demo, ma insomma poi di fatto una versione beta è un test che appunto viene fatto e che viene messo online e nello sfatti specie in questo aggiornamento la modalità cooperativa, la coop, è fatta soprattutto per testare riserve. Ora, io registro tardi di giovedì, non so come sono andate le varie prove che qualcuno ha fatto, non so neanche ora, vedremo se è una coop 2, cioè possiamo giocare 2 contro 2 o 2 insieme contro il computer, oppure addirittura estesa nella modalità cooperativa in bon pass, addirittura se non sbaglio c'era la possibilità di poter giocare in 11, quindi insomma capite bene che il giocare in 11 è un qualcosa di... come posso dire, per Xbox era molto difficile, è vero che io ho provato, avevo messo un annuncio, se si può dire così, sul gruppo di PES dove appunto avevo cercato di costituire una squadra, ma era molto difficile realizzare un gruppo di 11-12 persone, figuriamoci, una competizione con più squadre formate da 11-12 persone. Ora ci riproveremo, ma insomma, secondo me fino a che non c'è il crossplay, ma un crossplay vero nel senso della parola, non solo, diciamo, in forma parziale come c'è in FIFA, mi riferisco a poter giocare contro una console di diversa marca, quindi un Xbox contro una PlayStation, anche creando una stanza o creando una lobby, cosa che non c'è neanche in FIFA, almeno in FIFA 23 non ci sarà, dice che nel prossimo titolo quello che non sarà più taglato FIFA ci sarà. In eFootball, anche qui credo che sarà una modalità che sarà prevista a settembre, ma intanto le cose vanno per grado. Come sempre andiamoci a vedere il nostro video, ovviamente rigorosamente al muto, la versione 2.6.0, punto 0 ragazzi sapete che è la prima, poi ci sarà la 2.6.1, quindi ci sarà una revisione, quindi come sempre nelle versioni che vengono proposte come il punto 0 c'è sempre poi, a breve, anche addirittura, solamente nel giro di brevissimo anche nella versione. Allora questa settimana i giocatori che verranno proposti sono i specialisti del cross, quindi c'è una modalità, avete visto c'era il buon Cristiano, no Cristiano Ronaldo scusate, c'era il buon Arnold, poi c'era anche Anthony, poi c'era anche Shaw se non sbaglio, quindi tre giocatori della Premier League e poi ovviamente ci sono e non mancano mai anche alcuni giocatori dei campionati, io dico sconosciuti, però insomma un po' meno noti, ecco quindi questo è un po' il discorso. Ripeto, ora non so se io ve lo faccio vedere questo perché per chi mai è appassionato del gioco di football e vi dico la verità, questo chi è? Questo è Cannavaro, ci sono anche le nuove, ora poi ne parleremo anche, ci sono anche le nuove leggende che vengono e questo appunto ha furor di popolo, anche il buon Francescone Totti viene proposto insieme di nuovo a Pirlo e Cannavaro, quindi i tre dell'apocalisse, quelli che praticamente sono stati i protagonisti nel mondiale ultimo vinto dall'Italia nel 2006, gli ho dato in Germania. Ci sono diversi giocatori tra lunedì e il giovedì, ma ovviamente il giovedì è stato soprattutto il giorno appunto della nuova modalità che era attesa da tanti, ma soprattutto non tanto per la modalità, ecco Bruno Fernandes che, ah poi di questo parleremo, c'è il reset del, c'è la possibilità di resettare tutte le proprietà che avevamo dato, ma comunque lo vedremo diciamo passo per passo, dicevo era la modalità questa che in tanti aspettavano, alcuni le aspettavano non tanto per la modalità in sé stessa, ma, e io tra quelli, è per capire anche i serbi. Ora io devo essere sincero, è vero che non sono un assiduo giocatore del gioco, quindi avete visto anche sul canale posto solo una volta alla settimana un video che fa un repilogo della settimana stessa, però di fatto diciamo uno delle cose che era oggetto di perplessità anche del sottoscritto, ripeto, anche se non sono un abitué, era quello proprio di capire un po' il problema dei server, sapete che il buone football, così come PES, correggetemi se dico una bischierata, non aveva dei server dedicati e quindi spesso e volentieri c'era delle difficoltà abbastanza importanti nella scelta e nella, come posso dire, dell'individuazione e nella gestione della partita con un avversario prescelto. E quindi ovviamente con la modalità cooperativa questo problema si evidenzia ancora più, qualcuno l'ho già letto nei commenti, soprattutto sui gruppi a cui fa riferimento il canale, gruppi di Facebook e a proposito il gruppo di Facebook che gestisce il canale, cioè PES per premio normale, io sono rimasto con la vecchia dicitura PES e dicevo appunto questi amici, alcuni appunto avevano delle grosse perplessità soprattutto perché a detta di loro, ripeto, io ad ora, sto registrando a una serata in serata, prestissimo, non ho avuto la ventelle, non so se queste mancanze di lamentelle anche sulle live, ho visto che insomma non è che abbiano fatto poi, abbiano, hanno atteso una modalità che poi di fatto non l'hanno molto sfruttata. Comunque la vedremo ecco, però appunto alcuni hanno delle perplessità. Allora, i dettagli, allora, con questo diciamo aggiornamento noi possiamo, oltre all'introduzione dei nuovi giocatori Hero, che appunto avete visto sono il buon Totti che è un new entry, poi Pirlo che c'è sempre stato, anche Totti c'è sempre stato, a dire il vero, su PES, su FIFA no, forse non c'ha l'esclusiva, non lo so, comunque, e poi il buon Cannavalo. L'altra cosa, ci sono come così, cosa in più, un nuovo stadio del Tigre, se non sbaglio, il team che tra le altre cose è una delle squadre che ha un accordo con la Konami, e poi, cosa molto importante, ci sono, vabbè, oltre a, vedete, l'issa di giocatori speciali previste, Totti, Cavaglia, insomma, sono tutta una serie di giocatori che, vabbè, alcuni giapponesi noti e meno noti, però quelli italiani, e anche Kubo, che poi di fatto anche Kubo poi lo vediamo in tante sarse, anche su FIFA c'è spesso e volentieri, magari qualcuno dirà, va, va giù a FIFA, no ragazzi, il parallelismo è una cosa da me voluta, perché quest'anno, mai come gli altri anni, il buone Fultum l'assuglia tantissimo a FIFA, vedi, che per le carte, le solite carte, ci sono tantissime versioni, alcune molto buggate, di Carnavalo non lo so, ma, ad esempio, di Cristiano Ronaldo, ma soprattutto Messi, insomma, ce ne sono di Neymar, di Haaland, ci sono tantissime versioni, e questo mi fa dire che il gioco sta diventando molto simile alla concorrenza. Ecco, l'altra cosa importante è che c'è la possibilità, spendendo ovviamente i GP, di poter azzerare le, diciamo, gli allenamenti dati, no, i livelli assegnati a ogni singolo giocatore. Questa è una cosa importante, perché magari, che ne so, vogliamo provare un giocatore, dandogli delle caratteristiche diverse rispetto a quello che avevamo dato. Ovviamente, tirare i frugà, perché, insomma, ha un costo, questa cosa. Allora, andiamoci a vedere, ovviamente, noi entriamo. Allora, bonus giramento anticipato, ok. 180 monete ci hanno dato, e quindi, con 180 monete si può fare solo un giro, quindi poco o niente. Un tight grantee ticket, garantito 5 stelle per 3, bene. Poi 10.000 per 6, allenamento, perfetto. Programma aggiuntabilità per 6, perfetto. 300.000 GP, perfetto. Un bursche, un sergione in regalo. Un jody arba in realo. 90.000 GP, come scuse dalle... Io non capisco mai le cose. Allora, intanto vediamo già questo messaggio. Misure di riduzione del carico del server. A causa dell'elevato traffico degli utenti, abbiamo un posto, un limite temporaneo di capacità ai nostri server. Senzori di prova per ristabilire la connessione di rete quando appare il seguente messaggio. Vuoi provare a ristabilire la connessione? Quindi, già qui i server sono andati. Ovviamente, ragazzi, parliamoci chiaro, eh. Diciamo che ad questo punto io l'ho detto più volte anche nelle varie puntate domenicali. Proprio che domenica, ragazzi, ci sarà il consueto episodio del weekly che non ci sarà domani. Domani ci sarà la partita... La nostra partita di cempio. E domenica, invece, ci sarà il weekly. Quindi abbiamo anticipato. Abbiamo un po' scombussolato la settimana. Nel giovedì non abbiamo postato nulla, cioè ieri. E dicevo, praticamente, fino a che in e-football, diciamo, la ripetività... Comunque, il fatto di ripetere le stesse modalità all'infinito, sostanzialmente, ha allontanato decisamente quello che è il potenziale fruttore del gioco, il giocatore. E questo lo si vede anche dalla percentuale di utenti che bazzicano nelle divisioni più bassi. Perché? Le divisioni più bassi ci può andare anche il giocatore occasionale. Noi lo ricominceremo ora a giocare, eh. Quindi ripartiremo dalla nona o adesso, ma non so qual è l'ultima. E le percentuali di avversari sono, ovviamente, in percentuale più alta. Perché? Perché c'è l'occasionale, c'è quello che magari gioca ogni tanto e quindi non riesce a arrivare. Perché poi i tempi si stringono, sono 20-25 giorni. E quindi gioco forza. Ora, ovviamente, avendoci questo tipo di nuova modalità, la curiosità, no? Poi è sempre un gioco free, è gratis. Non c'è bisogno di comprarlo per giocarci. Poi per farsi una bella squadra non ci vuole. E poi la scienza è un uomo. Ovviamente, cosa ha portato? Ha portato anche un carico eccessivo rispetto magari anche a quello che poteva ipotizzare il programmatore del gioco, dei server. E quindi, molto probabilmente, questo messaggio ha già messo le mani avanti. Cioè, d'attenzione, ragazzi, che la nostra beta magari ha avuto un successo clamoroso, ma noi non siamo stati in grado, o di prevederlo, oppure di essere, di aver creato un qualcosa che poteva agguantare questo tipo di cosa. Manutizione completata. Ok, vabbè, che qui ci sono stati i 30 di inizio. Ok. Ci sono il Sergio Buscheggio di Alba, due profili calciatori il cui contributo al bacione lo supera lungo a qualsiasi numero di trofei. Vabbè, ce l'hanno regalati e quindi noi le prendiamo ora. Ovviamente, ecco il reset dei punti del progresso assegnati. Con l'aggiornamento 2.1 introduce una funzionalità che permette il reset dei punti di progresso assegnati. Quello che vi dicevo prima. Come si fa? L'assenza dei punti di progresso può essere resettata usando IGP. Il reset è effettuabile nei miei suoi venti menu. E football, mia squadra, giocatori, seri giocatori, poi opzioni, progresso, risetta. Ora, io devo essere sincero, a tutti i giocatori ho assegnato quelli che sono, ho distribuito i livelli in maniera tale, gli allenamenti, per avere il livello che mi gradeva. Al momento era a me di mio gradimento, quindi non credo che utilizzerò, però benvenga. Poi i dettagli della beta test della modalità Coop. Presto condurremo una beta test della modalità Coop, quindi di seguito tutti i dettagli. Ci auguriamo di cui cosa significa Coop, se è stata la modalità dal gioco possibile. In questa beta sarà disponibile solo la partita, amico. E va bene, è già qualcosa. Lo scopo, come vi dicevo prima, verificare le prestazioni in linea. La durata dura dall'otto, cioè da oggi, da ieri, scusate, fino al 22. Potremo condurre l'ottobiettese dopo il 22. Modale disponibile Coop a portata amica, a di fuori del periodo di disponibilità del bettese non potrà essere una l'opzione. Quindi, se appunto, vedranno che la beta non ha funzionato per il semplice motivo che, come avete visto prima dal messaggio, ci sono i server che non ha guai, allora non verrà rinviata. A di fuori il periodo che potrebbe verificarsi errori inattesi durante la beta test e il programma di questo beta test potrebbe variare senza preavviso. Se si avviene una partita con due utenti, questa diventerà una partita contro il computer, con entrambi i giocatori iscrivati nella stessa fazione. Se si avviene una partita con tre utenti che selezionano tutti nella stessa fazione, questa diventerà una partita contro il computer. Quindi, a questo proposito, si capisce bene che non dice oltre i tre utenti, ma dice che due utenti e basta, si giocherà contro il computer. Tre utenti contro il computer. Quattro utenti, due contro due. Questo io intendo. Cinque utenti? Eh, questo è una cosa da capirla. Nuovo file d'aggiornamento, vabbè, questo l'abbiamo già visto. Nuovo file disponibile, due o tre. Ok, vabbè, un prevenzione di migliorie. Questi ragazzi, poi, giocando, si impara. Andiamoci a prendere tutta la roba. Ricevi tutto. Insomma, si riceve un po' di robettina. Seggiore Buschè. Buschè, ragazzi, è un bel giocatore. Ci ho giocato parecchio. Ovviamente ci danno i giocatori base. E poi, ovviamente. E allora, noi siamo arrivati ora a avere... Andiamoci un po' a vedere un attimino il contratto. I giocatori che ci sono stati inseriti. Allora, qui abbiamo i giocatori, appunto, specialisti del cross. E sono tre. Vedi tutti. No, vedi tutti, sono tre. Hanno messo tre in un contesto di 150 pescate. Allora, Alexander e Arnold partono tutti dalla base, ovviamente. Poi c'è Tripper e poi Shaw. Io avevo visto... Non molto probabilmente, scusate, avevo sbagliato. Avevo visto, ma avevo sbagliato anche Anthony. Ma di fatto non è un terzino. Quindi, due destri e un sinistro. Ovviamente, Alexander e Arnold è dei tre migliore. 37 livelli di miglioramento. 97 come over di potenziale. Un giocatore che fa bene, prevalentemente, la fase d'attacco. Quanto è vero che, oltre che essere uno specialisti del cross, lui è un terzino offensivo. Ha le stazze dell'attacco. A parte la finalizzazione, il corpo di testa. Perché non è 75 per 69 kg. Insomma, poi alla fine il suo fisio non è che sia così potente. Ma, comunque, le stazze dell'attacco sono tutte ottime. Come sempre, mettiamoci giù. Così, perlomeno, potete vedere anche le posizioni in cui può giocare. Quindi, 72 comportamento offensivo. 75 controllo palla. Dreaming 71, possesso 170. Insomma, è un giocatore che, dal punto... E passaggi, passaggio alto, vedete, 89. Se non era specialista di cross. Una ha più che sufficiente velocità di accelerazione. È una buona, più che buona, potenza del tiro. Che, però, non fa un pandan con la finalizzazione. Quindi, questa potenza del tiro, molto probabilmente, è più di passaggio alto. Una buona resistenza. Poi, il controllo del corpo e il contatto fisico. Quindi, dribbling non ce lo possiamo fare. E il contatto fisico, ovviamente, lui si va usato come terzino offensivo. Vediamocelo com'è. Insomma, anche grafica. Ottimo. Tripper, trippe. Terzino offensivo. Anche lui, specialista del cross. E' un giocatore, anche lui, inglese. 32enne. Gioca, se non sbaglio, in... Dove gioca lui, dunque? Non nel West Ham, ma lui dovrebbe giocare nella... Non me lo ricordo. Quando mi viene in mente ve lo dico. E' un giocatore che parte da un over 81, 95, se non sbaglio, con 40 livelli di miglioramento. Ovviamente, rispetto all'altro giocatore, vedete che il passaggio alto è buono. L'altro era tendente all'ottimo, 89. Ha un buon tiro al giro. Però, ovviamente, pecca di finalizzazione e anche di comportamento difensivo. Perché, sì, è vero che il contrasto, l'aggressività e il coinvolgimento difensivo sono sufficienti. Sì, un poco più, però, insomma, poi il comportamento è decisamente insufficiente. Velocità e accelerazione sono più che sufficienti, così come la tendenza del tiro, ovviamente per il discorso del passaggio alto e del tiro al giro. Calcio al fermo, 79. Quindi, se un giocatore si potrebbe fare anche calciare. Può giocare, ovviamente, esclusivamente. Sulla sinistra, sulla destra, e può fare anche l'esterno alto. Non d'attacco. Resistenza e controllo corpo, 71. Ragazzi, non mi viene a mente dove gioco. Lui gioca nella... Madonna, non mi viene a niente. Via, gioco, non mi viene a mente. Poi mi viene a mente quando finirò questo video. E poi Shaw, l'ennesima carta di Shaw. Terzino offensivo, questa volta sinistra, può fare anche il difensore centrale. 35 livelli, parte da 82, arriva anche lui a 86. Giocatore che ha comunque, comunque, anche stats difensive sufficienti e addirittura l'aggressività tendente quasi al buono. Diferenice rispetto agli altri perché il comportamento offensivo non c'è. Anche se è un terzino offensivo, però ha un passaggio alto discreto. E una potenza tiro, però, non compensa da una potenza tiro. Perché ho 83 passaggio alto e, se si va a vedere la stats della forza, il potenza tiro 67. Quindi è un giocatore che ha un po' di controsenso, però, insomma, è pur sempre un giocatore da avere. Occhi azzurri, spilitati, benvenuto. Allora, come sempre, facciamo subito il giro per vedere chi è. Tanto non ci arriverà nessuno dei tre. Ragazzi, io di Giri Vistandi tra FIFA e Football. Boh, ragazzi, add-on. Cioè, 0, 0, fate qui ovviamente 0. Sarà un giocatore della English, ma roba da torta, che noi si svenderà subito. È un giocatore della Ponsa, ho mai sentito. Quindi chi è? Sicuramente sarà forte. Sembra che sia della Stonevilla. Sì, Stonevilla. È un frontale extra, ma è noi, ragazzi, mi dispiace, ma noi lo svincoliamo. Svincoliamo. Ciao, bello. Ok. Giocatori giapponesi, episci. Anche dei giocatori giapponesi, anche Stoichkovich. Allora, vedi tutti. Allora. C'è Chiesino, eh, Turam. Allora, qui abbiamo Stoichkovich. Stoichkovich. Giocatore, anche lui, che, insomma. Ragazzi, qui andò in Giappone. Il croato, all'età di 30 anni, nel 1995, nella Nagoya Grampus. Mai sentita, 31 livelli di miglioramento. Un giocatore che può fare trequartista. Io lo farei giocare più che altro. Trequartista, un centrocampista avanzato. Stazze d'attacco di partenza sono tutte tendenti al buono. A parte la finalizzazione del 73, probabilmente però lui deve, diciamo, dare palla. È un registra creativo, appunto. Calcina femma 80 e tira il giro 81. La difesa non lo guardo nemmeno. Sulla forza ha una sufficiente accelerazione, non compensata da una velocità che è 69. E poi un controllo corpo 80 con una visita a 70 watt. Poi, ovviamente, un meno 75 per 73 kg. Non possiamo pretendere che ci abbia un overalto del contatto fisico. E non vi consiglio neanche di aumentare. Questo è il giocatore, così come è visto da Konami, è un giocatore che va fatto giocare come trequartista dietro le punte. Quindi questi 31 punti, 32 livelli di miglioramento, io le gestirei un pochino sull'attacco. Quindi, soprattutto, il comportamento offensivo lo porterei a buono. Devo essere sincero, almeno 10 punti gli avrei darei. Dopodiché anche la finalizzazione. Poi dipende un attimino come un globo fa giocare. Se è un trequartista che ha la Messi, allora sì. Però se no... E poi un minimo di velocità gliela darei, ecco. Poi il salto, questa roba, controllo corpo, magari un sinzellino. Sono 31 livelli, sono tanti, non sono pochi. Gli altri due, ragazzi, le lascio ai fanboy, quindi che non sono ovviamente io. Poi, anche qui, il Worldwide dell'8 di giugno. I giocatori, ci abbiamo giocatori un po' di tutti i campionati, da Benzema, Karim Benzema. Ragazzi, questo è il giocatore che io vorrei. Anche le hao, eh. Ma io, ragazzi, questo qui, io tra tutti, ho tutti attaccanti, ma questo non ce l'ho. Sergio Neramos ce l'abbiamo. Chiesa, anche qui chiesa punta. Vediamo un po'. Questo è un giocatore che può giocare anche a destra. Chi si è attaccante di rientro? Ha 35 anni, ma sapete, ha salutato l'Europa. Sarà il prossimo giocatore che andrà in Arabia a, spero di non svernare, ma a prendere i Lilleri. 90, comportamento offensivo. Controllo palla, 89. Dribili con 83. Possesso 187. Passaggio alla soterra, 82. Ragazzi, finalizzazione 90. Questa è una carta che, ovviamente, top. Deve uscita 75, accensione 65, più che sufficiente va bene per il gioco che deve fare. Poi, contatto fisico 78, salto 75, con il colpore di 85, questo non l'ho capito. Quindi non sarta, praticamente. Calciera fermo, non gli facciamo battere. E ha un controllo corpo, tendente al più che sufficiente. È quasi un tronco, ma insomma. Ragazzi, vediamolo un po' qui. Eccolo, Icarim Benzema. È un giocatore che a me piace tantissimo. Vediamoci anche il buon Leao, giocatore chiave. Lui può giocare a tutte le parti. Dalla punta, all'esterno. E può fare il centro ampista avanzato. Può fare la mezza punta. Può fare il trequartista. Può giocare a sinistra. Può giocare a destra. Il centro ampista non lo deve fare fare. Ma deve fare fare il trequartista come lo è. Vediamo un po' le stazie d'attacco. 83, il comportamento offensivo. Controllo palla, 87. Dribbling 93 e la finalizzazione 84 con il controllo corpo 82. Velocissimo. 93 di velocità e 93 di accelerazione. Eccolo qui, il Leao. Questo secondo me è un giocatore di 23 anni. 1,88 per 81 kg. Fatico. Tanto fisico, 77. Reagge anche all'urto. Ottimo, ottimo giocatore. E vediamo, sfruttiamolo, vediamo un po'. Ah, qui ci vuole, prendiamo, vediamo dopo se si può prendere la monetina. Poi abbiamo giocatori del Baio di Monaco, i giocatori inglesi, i giocatori spagnoli. A questi ragazzi, ve l'avevo detto che si guardavano con calma. Con tanto mirato, noi abbiamo qualcosa. Allora, andiamoci a vedere quelli giocatori del Baio di Monaco. Ovviamente ci sarà Mané e Delar, che sono i chimici, che sono i giocatori più importanti. Anche Müller. Ma andiamoci a vedere il top, che è Mané. Non ce l'abbiamo di già, ragazzi. Ma non lo usiamo, perché in un gioco con gli esterni estremamente, perché su FIFA gioco con i due esterni, che poi devono fare tutto loro, e può crossare. E qui invece su Football mi piace più giocare contro i centri rampisti. È un modo di fare. Comunque, Mané, 1,75-69 kg, 30 anni. Giocatore del Baio di Monaco, non so se ci rimarrà quest'anno. Le stats, 23 livelli di miglioramento. Stats, diciamo, di partenza, 81. Quindi buono, comportamento offensivo, quindi può fare la punta, secondo me. Un buon dribbling. I passaggi fanno schifo. Infatti, come esterno, forse, anche no. Perché, insomma, l'esterno poi deve anche crossare. Passaggio arte e reso terra, 65. Colpo di testa, discreto per essere 1,75. C'è discreto, sufficiente. E poi con la velocità e l'accelerazione sono le sue. Il controllo corpo, infatti, è abbinato a un dribbling 80. Quindi questo è un giocatore, però non ce l'abbiamo di già, che non lo vorrei avere. L'altro giocatore, mentre, chimici ragazzi, ma quest'altro, secondo me, è regista creativo. Questo se ne parla di un gran bene, ma un po' perché è a 19 anni. Musiala, Musiala. È un regista creativo, può giocare al centro, può fare il mediano, può fare l'esterno, può fare la punta, può fare tutto. E 20 livelli di miglioramento, può arrivare a 94, mi sembra. Quindi 9 punti in più rispetto alla partenza. 82 controllo palla, dribbling 83, possaggio 186 e passaggio verso terra 81. Come vedete, questi sono delle stasse d'attacco veramente, veramente ottime per farlo giocare come o centrocampista avanzato o addirittura anche come trequartista perché, di fatto, le caratteristiche ce l'ha. Non ha una finalizzazione, quindi mi punta, non lo farei giocare, a meno che non uso i 20 livelli per quella specifica caratteristica. La velocità pecca un po', però, insomma, ragazzi, c'è l'azione 80 watt, velocità 77, non è velocissimo, però, secondo me, è un ottimo regista o un trequartista. Controllo palla 78, ovviamente pesa 70 mili, quindi il contatto fisico è normale che sia poco o nulla. Poi, andiamoci a vedere anche questi inglesi e poi questi inglesi quando è che finiscono a 52 giorni. Questi qui, ragazzi, dato ci sono tempo, si vedranno in un secondo momento. Ci abbiamo poi la possibilità, noi, vediamo un po', che intanto mirato, noi, la probabilità 24-6-2023, noi abbiamo uno solo da tre, quindi non si possono prendere niente. Noi abbiamo una monetina da poter girare. Io la vorrei prendere laddove c'è la possibilità di prendere un giocatore, quindi io la girerei qui. Ovviamente il mio obiettivo è quello di prendere Kalim Benzema, ma tanto arriverà Amsing, oppure Beiga, Luiz Alberto, Sergio Ramos, Chiesa, oppure Leao. Ma tanto, ragazzi, come dire. Chi non risica, non rosica. Vai. Chi viene fuori? Vediamo un po'. Signoramente ho cinque stelle. Anche le che sono andate. A parte l'ultima pescata, non mi è venuto. Ligan, Sergio Ramos. Quattro stelle. Oh, ragazzi, l'unico che aveva le cinque stelle, l'ho preso io. Saffortunato. Il portiere che non serve a niente e si svincula. Una mazza. Ragazzi, l'unico che avevo era io, il portiere offensivo Dupé, del Toulouse. Vai, levati di torno, mi dispiace, amore mio. Ma... L'abbiamo svincolato. Sono curioso però, mi fa vedere. Era l'unico quattro stelle. Era l'unico. No, c'era anche Amsig. Insomma, forse era anche un pino meglio. Però il peggiore l'abbiamo preso noi. Eh, ragazzi, te l'ho detto. È un periodaccio. Un periodaccio per il facciore. Allora, subito, l'ultima cosa. Poi ci salutiamo. L'episodio, appunto, nuovo episodio. Ah, ci sta sempre tre. Che cos'è tre? Cosa sono tre? Ah, ticket. Ah, abbiamo tre ticket. Ok. Uno. Usa ticket. Ingaggia il giocatore, ticket il giocatore. Chi è? Annula. Quando scade. Ah, ho voluto il giocatore per l'italità 5 stelle. Però pioviamo, prendiamone uno. Vai. Chi viene fuori è un 5 stelle. Così si prova. Questo non l'ho mai utilizzato. Sono un po', diciamo, acerbo su quello. Mi dice il 5 stelle. Ci credo. Cosa viene fuori? Un giocatore che non serve. Un altro portiere? Koulibaly. No, Koulibaly, Koulibaly. Ma cos'è la base? Ovviamente. Però, Koulibaly, ragazzi, è fatto molto, molto bene. Koulibaly. È un giocatore che noi ce l'abbiamo di già, eh. Quindi, sì, sì, è in base. In base. No, ce l'abbiamo di già. Poi vediamo, valutiamo se lo, diciamo, mandiamo via. Vabbè, questi due, fra 29 giorni, riordiamocelo. E poi cosa c'è? C'è altro? Gli altri giocatori li abbiamo presi. Allora, noi ce l'abbiamo circa 2.695.890 GP. 80 monetine. E poi due pacchetti al buio. Ma, sentite, io cosa me ne faccio? Le faccio ora. L'oralità usiamo, la vediamo, usiamo. Tanto non ha molto senso trattenerli. Sì, è vero. Poi scade il contratto. Ma, insomma, ragazzi, devi usarli. Il campionato italiano, vediamo chi c'è. Magari ci dà l'Ao. No, sì, ma non è quel giocatore lì. È il giocatore del portiere. No, chi è? Immobile. Ciruzzo immobile, no. Quest'anno non l'ho mai trovato. Ciruzzo immobile. Facciamo giocare. Magari lo maxiamo anche. Facciamo poi una squadra tutta italiana. Allora, abbiamo un po' le stazze. 25 livelli di miglioramento, 364 giorni di un anno, comportamento fisico 77, controllo palla 70, finalizzazione 81. Questi sono, se non lo maxi, poi controllo il livello 58. Questo è quasi inutilizzabile. Facciamo l'ultimo, usiamolo e poi così, perlomeno, ci siamo levati il dente. Poi andiamo a vedere velocissimamente com'è la modalità COP e poi ci salutiamo. Un video proprio lungo perché c'era un po' più di sustra. 5 Stelle, Liga, Ligan, Lewandowski, l'ennesima carta di Lewandowski, l'ennesima carta di Lewandowski, noi ce l'abbiamo di già Lewandowski. Eh, chi se non ce l'avevi? Era buono. Giocatore speciale ingaggiato. Ah, questo è il giocatore speciale. Il giocatore speciale è il regista creativo e preferisce i contropiedi veloci. Boh, va bene. 21 livelli di miglioramento, noi però ce l'abbiamo di già questo, eh. E l'abbiamo già maxato, quindi possiamo anche, diciamo, in un secondo momento quando magari faremo anche una live, eh, credo che la prossima live la faremo proprio parlando di football, giocando un po' ai football, facendo magari un'oretta, un'oretta e mezza, tornando in live sul canale PG Passione Games di Twitch oppure una live su YouTube, non lo so. ragazzi, velocissimamente, partita amico, qui non green team, partita amico, allora qui crea una stanza uno contro uno e crea una stanza. Unisci la stanza risentendoli il numero, eccoli qui. Inisci il numero di stanza, se il trattino puoi mettere i zero di finale, ah, come si fa qui? Cerca, cosa cerco, segnalo? No. Crea una stanza, sfida uno contro uno. Imposta fatto, no. Quindi da qui non si vede, eh. Da qui non si vede, ragazzi. Partita amica, partita di prova, questi non sono classificati, niente. Quindi qui, ragazzi, non eventi, niente. Quindi qui, ragazzi, pass partita, cos'è? Ah, in evidenza, i giocatori, e la premium, bonus, le posso prendere questi? Questo chi è? Botman! Ahia, quello di ieri che ha fatto del male. Ah, ecco dove giocava lui, no? Botman, qui stiamo venendo, ok. Questo Asano. Vabbè, non so come si fa, ragazzi. Molto probabilmente la partita, non lo so, se a questo punto ci dovrebbe essere, no? Vedete? Crea una stanza, vediamo un po' come si fa, perché così perlomeno magari si vede insieme, perché ci sono i messaggi, ecco qui. Problemi di attivazione 1 del campione, resi dei punti, problemi noti, dettagli, eccola qui. Presto condurremo la beta test, come presta? Allora non è stata fatta. Allora, parteremo con 1 del test, dove? Se state la modalità, allora, al di fuori del periodo del programma, parteremo il programma, se viene la partita di 3 utenti, come si fa, allora falla. Solo la partita amico. In questo test beta, solo la partita amico. Quindi molto probabilmente noi dobbiamo impostare, noi dobbiamo impostare la partita amico, qui creando una stanza sfida 1 contro 1, però qui è un po' ambiguo. Ora non vorrei che, appunto, la modalità, quando sto registrando, di coppia non sia ancora attiva. Può anche essere. Vabbè, ragazzi, io direi di chiudere con questo punto interrogativo, questo episodio, molto ricco, e in settimana, appunto, sicuramente farò una partitina per vedere se il gameplay, come qualcuno ha detto, dovrebbe essere migliorato. E niente, che dire. Se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un like, iscrivetevi al canale, ragazzi, aiutate il faccione a raggiungere l'obiettivo prefissato di mille iscritti, anche se ho visto che qualcuno se n'è andato, probabilmente qualche content non gli è piaciuto. E niente, io vi saluto e vi do appuntamento. Alle prossime. Ciao, ciao.